Buonasera, questa sera siamo a Piazza Sagone, un quadrante del territorio di Ostia che devo dire che da mesi si stanno facendo molte, moltissime asfaltature vediamo che c'è un mantrosto tavare perfetto, delle strisce di un'area orizzontale piuttosto che verticale fantastica, non ci sono buche il compattatore AMA è passato già due volte questa sera tutto funziona e noi siamo felici per questi nostri circa 1.500 abitanti del nostro territorio però accade che una volta quando in politica si diceva chissà chi abita là che tutto funziona, questo sembrava un discorso superato invece ad oggi dobbiamo cercare di capire chi abita qua perché le cose funzionano tutto bene ma purtroppo non è così su tutto il nostro territorio quindi questa cosa noi la porteremo in aula cercheremo di capire, ma non ce ne voglia nessun cittadino di questo quadrante ma cercheremo di capire il perché di tante opere in questo spazio così ristretto senza considerare che comunque l'entroterra del nostro municipio è completamente devastato è pieno di frughe e non riusciamo appunto a capire perché questo quartiere questo quadrante del municipio è completamente asfaltato completamente curato diciamo invece tutto il resto del municipio è incurato e non viene controllato, non passa lama e qua invece già il compattatore è passato ben due volte